Dopo un po' arrivarono a una fitta cintura di querce alte e molto antiche, e al di là di queste un'alta siepe spinosa attraverso la quale non si poteva vedere né arrampicarsi. «È meglio che aspettiate qui», disse lo stregone ai nani, «e cominciate a seguirmi quando vi chiamo, o a voce o con un fischio. Passerete da dove sono passato io, ma solo a coppie, mi raccomando, a circa cinque minuti di intervallo fra coppia. Bombur è il più grosso e farà per due. Sarà meglio che venga da solo e per ultimo. Andiamo, signor Peckins, per di qua. Dovrebbe esserci un cancello». E così dicendo si mosse lungo la siepe portando con sé lo spaventato Hobbit. Arrivarono presto a un cancello di legno, alto e largo, oltre il quale potevano vedere qualche giardino, e un gruppo di bassi edifici di legno. Alcuni fatti di tronchi grezzi e coperti da un tetto di paglia, granai, stalle, rimesse, a una casa lunga e bassa, anch'essa di legno. All'interno del lato meridionale della grande siepe c'erano file e file di arnie, con il tetto di paglia a forma di campana. Dappertutto risuonava il ronzio delle api giganti, che volavano per ogni dove ed entravano e uscivano dagli alviari. Lo stregone e lo Hobbit spinsero il pesante cancello scricchiolante e scesero per il largo viottolo verso la casa. Alcuni cavalli dal pillo lucidissimo e ben strigliato vennero trottando attraverso il prato e li guardarono intensamente con un'espressione molto intelligente. Poi partirono al galoppo verso i fabbricati. «Sono andati ad avvisarli dell'arrivo dei forestieri», disse Gandalf. Presto raggiunsero un cortile, tre lati del quale erano formati da una casa di legno e dalle sue due lunghe ali. Nel mezzo giaceva un grande tronco di quercia, accanto al quale c'erano molti rami tagliati. Lì accanto stava ritto un omone dalla folta barba nera, capelli neri, grosse braccia e gambe nude dai muscoli nodosi. Indossava una tunica di lana che gli arrivava alle ginocchia e si appoggiava a un'ascia enorme. I cavalli stavano vicino a lui, con il muso sulle sue spalle. «Ah, eccoli!» Egli disse ai cavalli. «Non hanno un aspetto pericoloso. Potete andarvene». Fece una risata tonante. Mise giù l'ascia e si fece avanti. «Chi siete? E cosa volete?» domandò rudemente, mettendosi di fronte a loro e torreggiando alto sopra Gandalf. Per quanto riguarda Bilbo, avrebbe potuto trotterellargli facilmente tra le gambe senza neanche dover abbassare la testa per evitare la frangia della sua tunica barrone. «Io sono Gandalf!» disse lo stregone. «Mai sentito nominare!» brontolò l'uomo. «E questo piccoletto chi è?» disse abbassando gli occhi per guardare in cagnescolo hobbit da sotto le irsute sopracciglia nere. «Questo è il signor Baggins, un hobbit di buona famiglia e dalla reputazione impeccabile» disse Gandalf. Bilbo si inchinò, ma non aveva un cappello da togliersi ed era penosamente conscio dei tanti bottoni che gli mancavano. «Io sono uno stregone» continua Gandalf. «E ho sentito nominare te se tu non hai mai sentito nominare me. Ma forse hai sentito nominare il mio buon cugino Radagast che vive presso i confini meridionali di Bosco Tetro». «Sì, non c'è male per uno stregone, mi pare. Lo vedevo di tanto in tanto» disse Beorn. «Beh, adesso so chi siete e chi dite di essere. Che cosa volete?» «A dire la verità abbiamo perso i bagagli e ci siamo quasi persi noi stessi e abbiamo bisogno di aiuto o perlomeno di un consiglio. Direi che ce la siamo vista brutta con gli orchi sulle montagne». «Orchi!» disse l'omone. «Ah! Così avete avuto guai con loro, eh? Che ci siete andati a fare così vicino?» «Non ne avevamo alcuna intenzione. Ci hanno colto di sorpresa nottetempo su un passo che dovevamo attraversare. Venivamo dalle terre occidentali verso questi paesi». «È una lunga storia». «Allora fareste meglio ad entrare e raccontarmene un pezzo se non durerà tutto il giorno». L'uomo disse facendo strada per una porta scura che dal cortile conduceva dentro casa. Seguendolo si trovarono in una grande sala col camino al centro. Benché fosse estate c'era un fuoco di legna che ardeva e il fumo saliva verso le travi annerite per poi uscire da un'apertura nel tetto. Oltrepassarono quella sala in penombra illuminata soltanto dal fuoco e dal buco sopra di esso e per una porta più piccola entrarono in una specie di veranda sorretta da pilastri di legno fatti da tronchi interi. Era esposta a sud ed era ancora calda inondata dalla luce del sole che volgeva occidente e vi penetrava obliquamente ricadendo dorata sul giardino pieno di fiori che arrivava fin sotto ai gradini. Lì si sedettero su panche di legno e Gandalf cominciò la storia mentre Bilbo dondolava le gambe nel vuoto guardando i fiori del giardino domandandosi quali potessero essere i loro nomi poiché prima di allora non aveva mai visto neanche la metà di quei fiori. Stavo per passare le montagne con un paio di amici disse lo stregone un paio io riesco a vederne uno solo e piccolo per giunta disse Peorn beh a dire la verità non volevo disturbarti con molti di noi finché non avessi saputo se eri occupato gli darò una voce se me lo permetti avanti chiama Gandalf fece un fischio lungo e penetrante ed Eccos che subito Thorin e Dori girarono intorno alla casa sul sentiero del giardino e giunti davanti a loro si inchinarono profondamente un paio o un trio volevi dire eh? disse Peorn ma questi non sono Hobbit sono nani Thorin nascuto di Quercia al vostro servizio Dori al vostro servizio dissero i due nani con un altro inchino non ho bisogno dei vostri servizi grazie disse Peorn ma ho l'impressione che voi abbiate bisogno dei miei i nani non mi piacciono molto ma se è vero che sei Thorin figlio di Trayn figlio di Thor mi pare che il tuo compagno è un nano per bene e che siete nemici degli orchi e che non avete l'intenzione di combinare danni alle mie terre anzi a proposito che cosa avete intenzione di fare? loro stanno andando a visitare la terra dei loro padri lontano a oriente al di là del bosco tetro intervenne Gandalf ed è per puro caso che siamo capitati nelle tue terre stavamo per passare il valico alto che avrebbe dovuto portarci sulla strada a sud del tuo territorio quando fummo attaccati dagli orchi malvagi come stavo appunto per raccontarti e continuo a raccontare allora disse Peorna che non era mai molto educato ci fu una tempesta terribile i giganti di pietra usciti a scagliarrocce e e in cima al passo ci rifugiamo in una grotta l'hobbit io e parecchi altri compagni parecchi due li chiami parecchi beh no di fatti ce ne erano più di due dove sono uccisi mangiati tornati a casa e beh no pare che non siano venuti tutti quando ho fischiato per timidezza ritengo vedi abbiamo paura di essere in troppi ad abusare della tua ospitalità e allora avanti fischia di nuovo a quanto pare non ho scampo mi tocca prender parte a una riunione e uno o due in più non fa molta differenza ringhiò Peorna Gandalf fischiò di nuovo ma Nori e Ori erano lì quasi prima che avesse finito perché come ricorderete Gandalf aveva detto loro di arrivare a coppie ogni cinque minuti salve disse Peorna non ci avete certo messo molto a venire dove stavate nascosti venite avanti salta Martini Nori al vostro servizio e Ori al cominciarono il loro ma Peorna li interruppe sì grazie quando vorrò il vostro aiuto ve lo chiederò adesso sedetevi e andiamo avanti con questa storia o sarà ora di cena prima che sia finita appena ci addormentammo continuò Gandalf si aprì una fessura sul fondo della grotta ne uscirono degli orchi e agguantarono l'hobbit i nani e tutta la nostra schiera di poni schiera di poni ma chi eravate un circo ambulante o portavate una montagna di merci o sei li chiami sempre una schiera tu oh no beh in realtà c'erano più di sei poni più che eravamo più di sei eravamo più di sei noi stessi e beh ecco ne altri due proprio in quel momento apparvero Balin e Dualin che si inchinarono tanto profondamente che la loro barba spazzò il pavimento di pietra da prima l'omone si accigliò ma essi fecero del proprio meglio per essere terribilmente educati e non smisero di curvare il capo finché egli non spianò il cipiglio e si mise a ridacchiare erano proprio buffi schiera era la parola giusta disse una bella schiera buffa venite avanti mattacchioni e quali sono i vostri nomi non voglio i vostri servizi per il momento solo i vostri nomi e poi seditevi e smettetela di agitarvi Balin e Dualin dissero loro non osando offendersi e si sedettero di colpo sul pavimento con un'espressione alquanto sorpresa adesso continua disse Beorn allo stregone dove ero oh sì io però non venni agguantato uccisi un paio di orchi con un lampo bene ringhiò Beorn allora serve a qualcosa essere uno stregone e mi infilai nella fessura prima che si chiudesse li seguì giù nella sala centrale che era stipata di orchi c'era il grande orco con trenta o quaranta guardie armate pensai tra me e me anche se non fossero tutti incatenati cosa può fare una dozzina contro tanti nemici una dozzina è la prima volta che sento chiamare otto una dozzina oppure ai altri saltamartini che non sono ancora saltati fuori dalla loro scatola delle sorprese e beh sì mi sembra che adesso ce ne siano altri fili e chili credo disse Gandalf mentre quei due comparivano e si profondevano in sorrisi e in chili basta così disse Beorn sedetevi e state zitti adesso continua Gandalf così Gandalf andò avanti col suo racconto finché arrivò alla lotta nel buio alla scoperta dell'uscita inferiore e al loro orrore nell'accorgersi di aver smarrito il signor Peckins ci contammo e scoprimmo che non c'era più lo Hobbit eravamo rimasti solo in quattordici quattordici è la prima volta che sento dire che dieci meno uno fa quattordici volevi dire nove o altrimenti non mi hai ancora detto tutti i nomi della tua brigata beh certo non hai ancora visto Oyn e Gloyn e che il cielo mi fulmini eccoli qua spero che li perdonerai per il disturbo che ti arrecano oh allora falli venire tutti forza sbrigatevi voi due mettetevi a sedere ma senti un po' Gandalf anche adesso abbiamo solo te dieci nani e lo Hobbit e fate solo undici più uno smarrito e non quattordici a meno che gli stregoni non continuo in modo diverso dagli altri ma adesso per piacere va avanti con la tua storia Beorn cercava di non darlo a vedere ma in realtà il suo interesse era andato aumentando vedete ai vecchi tempi egli aveva conosciuto proprio quella parte di montagna che Gandalf stava descrivendo annuì e ringhiò quando udì della ricomparsa dello Hobbit e della discesa precipitosa con le ghiaione e del cerchio di lupi nei poschi quando Gandalf arrivò al punto in cui si erano arrampicati sugli alberi con tutti i lupi di sotto Beorn balzò su si mise a camminare a grandi passi e borbottò come avrei voluto esserci anche io altro che fuochi d'artificio gli avrei dato bene disse Gandalf molto contento di vedere che il suo racconto stava facendo una buona impressione io feci del mio meglio stavamo là coi lupi impazziti sotto di noi e la foresta che cominciava a fiammeggiare qua e là quando gli orchi calarono dalle colline e ci scoprirono urlarono di gioia e cantarono anche delle canzoni divertendosi alle nostre spalle ben quindici uccelli suabeti posati gran cielo ringhiò peorna non vorrai farmi credere che gli orchi non sanno contare sanno contare come dodici non è quindici e loro lo sanno bene e lo so anche io c'erano anche bifur e bofur non mi sono azzardato a presentarli prima ma eccoli qua entrarono bifur e bofur e io boccheggiò bombur respirando con un affanno dietro di loro era grasso e per giunta arrabbiato per essere stato lasciato indietro fino alla fine rifiutandosi di aspettare altri cinque minuti entrò subito dopo gli altri due beh adesso siete davvero quindici e visto che gli orchi sanno contare suppongo che questo sia tutto ciò che c'era sugli alberi